ragazzi che è? che è? che è? guarda eric... c'è acqua carbonara dov'è allora dov'è? guarda rublo dice che è là ancora eric e la canna? ah là dice che è? ma questo ti mangi tosse? ah è l'amore? si questo si fa la scorpacciata è bellissima hai visto? ma ragazzi nei top e nei serpenti mi piace